Prosegue l'azione della Guardia di Finanza di Caltanissetta per contrastare il fenomeno della contraffazione, dell'abusivismo commerciale e garantire la tutela del Made in Italy. Il gruppo di Gela ha incrementato i controlli nel lungomare Federico II di Svevia, luogo di ritrovo durante la stagione estiva. Nel corso dei vari controlli svolti, le Fiamme Gialle hanno identificato quattro venditori ambulanti stranieri, intenti alla vendita di capi d'abbigliamento, accessori e calzature recanti grandi marchi, ma taroccati. Successivi riscontri hanno appurato che si trattava di oltre 300 capi tra pantaloni, borse, scarpe sportive e orologi, che non presentavano i requisiti di conformità previsti dalle case madri in ordine alla tipologia, alla qualità e alle modalità di costruzione, quindi abilmente contraffatti che i finanzieri hanno provveduto a sequestrare denunciando i responsabili alla procura di Gela per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.